Per Alessandre Oggi nuovo appuntamento con Dentro la notizia in compagnia di Gigi Moncalvo. Secondo quanto riportato da Alessandre Oggi al Comune di Alessandria è arrivato addirittura un pignoramento. È arrivato un grosso pignoramento, un pignoramento che supera un milione di Euro ed è un primo pignoramento poiché il Comune di Alessandria deve pagare 3 milioni di Euro. 3 milioni di Euro su una cosa che dovrebbe far sorridere e che invece preoccupa molto perché non sono state pagate le bollette della luce. Non è stata pagata l'energia elettrica e quindi la società che fornisce questo servizio, la società, era subentrata a Enel dopo mesi di attesa, dopo avvisi, dopo essersi rivolta alla magistratura civile di aver ottenuto un decreto ingiuntivo, è passata giustamente alle vie di fatto chiedendo un pignoramento. Quindi per il suo debito che ammonta in totale a 3 milioni di Euro ha già ottenuto dalla magistratura un primo pignoramento per più di un milione di Euro che si riferisce a una prima tranche di bollette non pagate. Com'è possibile che si sia creata una situazione del genere? È incredibile perché quando noi non paghiamo la luce ce ne accorgiamo, magari dimentichiamo una bolletta, però non lasciamo accumulare le bollette. Qui abbiamo una versione ufficiale del comune di Alessandria, una versione abbastanza ridicola e abbastanza puerile. Il ragioniere capo del comune, Zaccone, ha detto che la causa di tutto sta nel fornitore. Quindi la società erogatrice del servizio elettrico avrebbe, secondo questo Zaccone, mandato non il conto ogni mese, una bolletta della luce cumulativa, ma avrebbe mandato, giustamente perché è giustamente, tante bollette a seconda dei vari uffici. Ma è logico che avvenga così che mandi tante bollette perché ti deve mandare la lettura dei contatori, ci sono più contatori, ci sono più sedi staccate, ci sono tanti uffici e quindi come fanno a fare una bolletta cumulativa? Questa è la cosa paradossale. Come fa il ragioniere capo del comune a giustificarsi dicendo se avessero mandato una bolletta cumulativa ce ne saremmo accorti? No, la cosa è ancora più scandalosa e vergognosa perché risulta che tutti i responsabili dei vari uffici che hanno ricevuto nel loro ufficio la bolletta dall'ufficio protocollo che le smistava, le hanno liquidate. Che cosa vuol dire? Hanno dato l'ok alla spesa e le hanno trasmesse alla ragioneria generale affinché queste bollette venissero vidimate e pagate. Quindi ognuno degli uffici ha fatto, ogni responsabile ha fatto il suo dovere, è arrivata la bolletta, controllo a quale mese si riferisce, se per caso è stato già pagato o qualche cosa del genere e faccio un'annotazione e la mando in via ufficiale per la liquidazione alla ragioneria generale che dovrà liquidarle. Quindi non era possibile per la società era fare una sola bolletta, ma doveva fare centinaia di bollette a seconda dei contatori e delle utenze. Ora, vedete, il problema è che non si può scherzare con queste cose e fare dello scaricabarile, soprattutto da parte di dirigenti apicali, si dice in questi termini burocratici, che vengono molto, molto ben pagati. Noi con Alessandria oggi abbiamo cercato di fare una ricostruzione attendibile dei fatti e siamo arrivati a scoprire questo. Già a settembre del 2017, vale a dire 7-8 mesi fa, erano state passate dagli uffici alla ragioneria generale perché le pagasse le varie bollette per una somma totale di più di un milione e mezzo di euro. E sono queste bollette che sono l'oggetto del primo pignoramento già ottenuto. Poi ci sono le altre di un altro milione e mezzo per un totale di 3 milioni, quindi di debito totale, che a poco a poco costituiranno motivo di altri pignoramenti. Ora, perché la ragioneria non le ha pagate? Perché la ragioneria ha dato la colpa agli uffici? Perché evidentemente era perfettamente a conoscenza del debito che si andava ad accumulando, ma la ragioneria, anzi il ragioniere capo, ha fatto l'indiano, credendo probabilmente che il comune sia una sorta di casino, punti sul rosso, punti sul nero a seconda di quello che esce, o lo scement de faire. Ma se un ragioniere capo fa una cosa del genere, i casi sono tre. O è autorizzato da qualcuno, o è coperto politicamente da qualcuno, oppure non è in grado di fare il suo mestiere. A voi scegliere. Punto interrogativo. Quando si parla in televisione non c'è la punteggiatura come nello scritto. Io quindi dico punto interrogativo. Quale delle tre? Ma il responsabile capo non è lo stesso del default? E qui viene il bello. Perché ci dovrebbe essere una sorta di spoil system, vale a dire ogni volta che arrivano degli amministratori nuovi, che arriva un sindaco nuovo, che si forma una giunta nuova, occorrerebbe che tutti coloro che si trovano nei vertici dei vari uffici, l'ufficio tecnico, la ragioneria generale, eccetera, non dico che debbano essere cambiati perché altrimenti ogni cinque anni cambierebbe tutto, bisognerebbe pagare fior di liquidazioni, eccetera, ma ci vorrebbe, diciamo così, un criterio specialmente questo all'interno di un comune dove è avvenuto un default o presunto tale. E qui vi rimando al libro del direttore di Alessandria Oggi, Andrea Gwen, il libro di Sesto, che è molto esplicativo e vi spiega perché. Ma in questo libro emerge che qualcuno che faceva l'indiano c'era anche allora ed era sempre il ragioniere capo, lo stesso che adesso ha combinato questo pastrocchio che mette in luce una cosa, che al palazzo rosso, rosso di vergogna dovrebbe essere, sono al verde, cioè il comune non ha fondi sufficienti nemmeno per garantire l'ordinaria amministrazione e pagare le bollette della luce. attenti e continua a far fallire il comune o a mandare in concordato le sue partecipate per non pagarne i debiti. Il comune ha delle partecipate, è azionista di alcune società che sono in grosso deficit e se le fa fallire o se le manda in concordato chiaramente non paga i debiti che debbono essere pagati e infatti qual è la gabola che stanno studiando per fregare i cittadini, i loro risparmi, i lintroiti del comune attraverso le imposte, vogliono affidare ad AMAG un altro carrozzone super scoppiato che cosa? Il servizio di fornitura dell'energia, quindi lo tolgono ad ERA che ha avuto il coraggio giusto e il dovere di fare dei pignoramenti e delle azioni giudiziarie, vogliono togliere il servizio di energia ad ERA e vogliono affidarlo ad AMAG in maniera che la luce non la pagherà più nessuno essendo una società del comune mentre il precedente gestore si terrà i debiti e andrà avanti con le azioni esecutive che costeranno molto. Questo è un vero default concreto, visibile, molto più di quello precedente in proporzione. A tuo avviso come si può uscire realisticamente da questa situazione? C'è un organismo che si chiama Corte dei Conti che così come intervenne per il precedente default dovrebbe essere pronta a intervenire su questa vicenda, una vicenda che non nasce da una denuncia anonima, che non nasce da una lettera di uno che non esiste, nasce da un sito internet, da una trasmissione televisiva come la sua, Gian Maria Zanieri e quindi non è una lettera anonima, è una vera e propria denuncia di una gravissima situazione che si poteva sanare fin dal settembre del 2017 pagando regolarmente, come facciamo tutti noi, le bollette della luce. Ringraziamo come sempre Gigi Moncalvo. Grazie, grazie a voi. Gian Maria Zanieri, Alessandre Oggi.